Partita intensa, da cui è uscita una brutta sconfitta per Imo Lassana. Sì, è uscita una brutta sconfitta per quello che si è visto in campo. Direi che è stata una partita che abbiamo giocato alla grande, quasi dominato. Loro hanno fatto un tiro in porta, forse due. Noi siamo qua a recriminare un gol di fuorigioco annullato, che non so per cosa sia stato annullato. Forse perché Imo Lassana, delle visioni di Serie A, fanno queste cose, non lo so. Purtroppo se noi abbiamo due partite abbiamo subito degli arbitraggi penalizzanti a dire poco. Però noi andiamo avanti, ripartiamo, sappiamo le nostre qualità. Abbiamo delle qualità, quindi pensiamo già alla prossima. Quindi si può ritenere soddisfatto dei suoi ragazzi? Per la prestazione assolutamente sì. È andato tutto. Non posso dire niente a nessuno. Mi dispiace per gli episodi, perché è l'unica cosa sulla quale si può recriminare. Perché la prestazione è stata straordinaria. Per intensità, per agonismo. Agonismo in senso buono. Quindi, chapeau. Grazie. 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 Grazie.